La conclusione ha attinto al pensiero della Thatcher, quindi forse un mondo produttivo delle imprese, di gente che vuole lavoro vero, deve guardare un orizzonte di un centro-destra che si rinnovi e si riproponga come riferimento a tutto un mondo che guarda con grandi dubbi alla confusione che si sta asseminando intorno a un governo che non riesce nemmeno a nascere ancora. Quindi ci sono spunti buoni per tutti e forse più Thatcher e meno Renzi è anche un motivo di riflessione per il relatore di oggi. Più Europa ma anche un'inversione della priorità tra il patto di stabilità e crescita, cosa ne pensi? Ha detto Boccia che bisogna stare in Europa per riformarla, per cambiarla e di questo siamo convinti anche noi di Forza Italia, dell'Europa non si può fare a meno, di questa Europa i popoli vogliono fare a meno, quindi bisogna cambiarla per non farla rifiutare. Grazie a tutti!